allora la novità almeno per quanto riguarda me è che ho potuto finalmente apprezzare Filippa Giorgio oltre al fatto che continuiamo con questo schema ad episodi autoconclusivi ma comunque facendo parte di un arco narrativo più ampio che man mano lo stiamo scoprendo ciao ragazzi questo episodio è stato molto bello e secondo me Star Trek Discovery inizia proprio con la terza stagione il mio momento preferito dell'episodio tutte le volte che si sentiva come sottofondo musicale il tema della TOS di Alexander Courage la mia scena preferita l'ultima scena quando si intravede San Francisco dall'alto ciao a tutti l'episodio che mette al centro il dialogo e la speranza temi che anche nel nostro periodo storico attuale sono molto importanti e Star Trek quindi come faceva negli anni 60 sta tornando a ritrattare questi temi bellissima la scena d'incontro tra il guardia Marina Tilli e Michael Burnham mi ha emozionato veramente tantissimo Star Trek sta tornando ad essere quello che era una volta Discovery si sta riscattando salve ragazzi cosa dire di questo nuovo episodio? mi piacciono i capelli della Burnham le donano un aspetto molto più leggero e parafrasante il grande Spock interessante nel primo abbiamo visto l'arrivo in una terra inesplorata nel secondo abbiamo visto il vecchio West e adesso inizia l'epopeia della nuova esplorazione come ho già detto e come ha detto anche gli altri la stagione numero 3 di Discovery è fantastica decisamente sta piacendo a tutta la redazione in particolare io che ho odiato le prime due stagioni mi sto divertendo molto ciao ok ragazzi episodio pieno di sorprese mi è piaciuto davvero davvero molto ci sono state molte scene interessanti per esempio la scena dove si contratta per arrivare ad una soluzione ma a me particolarmente è piaciuta molto la scena finale dove si vede Tilly con tutto il resto dell'equipaggio della Discovery quindi niente episodio davvero fantastico questa serie di episodio in episodio sta migliorando sempre di più e la terza stagione secondo me è veramente una bomba un saluto a tutti io veramente carico di speranza e secondo me riesce a trasmettere un messaggio davvero bello e importante di questi tempi mi ha colpito molto la scena in cui Saru e Michael Burnham si incontrano in questa terza video recensione vorrei focalizzarmi su degli aspetti emozionali negli anni Star Trek Discovery mi aveva abituato a provare sentimenti contrastanti nei confronti di un episodio ma nessuno di questi era mai stata una sensazione di tra virgolette pace, felicità e qualcosa di intenso vi consiglio di guardare questo episodio perché ne vale veramente la pena questi i pareri della nostra realizzazione riguardo l'episodio ma torneremo a parlarne ancora questa domenica alle ore 22 sulla nostra pagina Facebook, il canale YouTube, Twitch o Periscope e rivedremo invece insieme l'episodio giovedì sempre alle ore 22 quindi mettete già in caldo giovedì il vostro abbonamento Netflix perché tramite quello potrete seguire e commentare con noi l'episodio non solo sia domenica che giovedì avete ancora la possibilità di partecipare al concorso nel quale potete vincere il modello della Eagle Moss della USS Discovery formato XL che dirvi, l'occasione per poter partecipare è molto semplice basta fare un colpo di telefono e vi garantisco che il centralino attualmente è abbastanza libero e anche molto semplice prendere la linea, indovinare un codice a tre cifre e potreste avere la USS Discovery a casa vostra che dirvi, tentare o non nuoce fate un colpo di telefono noi vi aspettiamo domenica e giovedì a presto